Il documento di programmazione economica e finanziaria per il ministro dell'economia Tria si punta alla crescita rispetto alla stabilità dei condimenti. Amore, stai mangiando amore? Ti senti meglio Sushi? Un pochino sì? Bravo tesoro. Ugolina che fai? Che fai Ugolina? I bacini amore? Sì? I bacini, è felice Ugolina. E qui il nostro campione wasabi, quasi, è mangiato quasi, eh? Era buono? Che buoni questi stick, vero una fattina? Che mangiati tu Luci? Sì? Bravo. Nella manovra alla riduzione delle cose alle piccole e medie aziende e l'anno prossimo è tutto l'economia Tria E poi, con tutta che ci sarà un'economia di Stadina Ciao Bia, come stai Bia? Anche sei meglio? Sei meglio amore? Ma non mi muore Il fine Il fine